L'Abruzzo ancora a corto d'acqua con le società di distribuzione costrette periodicamente a lasciare a secco i rubinetti di diversi comuni con conseguenti disagi per i cittadini. Troppo facile però dare tutta la colpa alle poche precipitazioni e al surriscaldamento globale, problematiche per cui il solo Abruzzo può fare ben poco. La nostra regione infatti è la peggiore in Italia per dispersione idrica nelle reti di distribuzione. Oltre la metà dell'acqua si perde nelle vetuste e tubazioni che corrono sotto i nostri piedi. Si potrebbe pensare che negli ultimi 30 anni, grazie alla manutenzione e alle nuove tecnologie che permettono di monitorare costantemente le condizioni di reti esorgenti, la situazione si è migliorata ma invece è esattamente il contrario. Nel 1990 l'acqua perduta era pari al 33,8 per cento del totale di quella emmessa nelle reti. Una percentuale già alta considerando che allora la media nazionale era della 27,1. Nel 2018 invece, secondo un'indagine di Confartigianato, la dispersione è stata del 55,6 per cento, risultato che consegna l'Abruzzo la maglia nera d'Italia. La media nazionale è infatti del 42 per cento. E' come se la nostra regione fosse una persona che ogni giorno, acquistate due bottiglie d'acqua, ne apre una e la rovescia completamente a terra, poi apre l'altra e ne butta un altro po'. E la situazione è critica da decenni. Già nel 2002 l'allora assessore regionale ai lavori pubblici De Matteis denunciava che le dispersioni erano oltre il 50 per cento a causa di omissioni in tema di manutenzione. Oggi tre delle quattro province abruzzesi sono tra le prime d'Italia nella classifica di chi spreca più acqua. Si salva Teramo, mentre Chieti, L'Aquila e Pescara sono rispettivamente al terzo, quarto e decimo posto della lista nazionale. I cambiamenti climatici in atto e l'aumento della popolazione globale non potranno che aggravare un problema che già riguarda anche l'Abruzzo, dove i ghiacciai appenninici sono anno dopo anno più ridotti. Secondo l'Organizzazione Mondiale di Meteorologia, negli ultimi 20 anni l'acqua accumulata sulla superficie nel sottosuolo terrestre sotto forma di neve e ghiaccio è diminuita di un centimetro ogni anno. Nel 2018 già 3,6 miliardi di persone hanno avuto un accesso inadeguato all'acqua per almeno un mese dell'anno. Nel 2050, dicono gli esperti, il numero potrebbe quasi raddoppiare arrivando a 5 miliardi. Così, anche nella regione con le reti idriche più colabrodo d'Italia, l'acqua sarà definitivamente un bene di lusso.